Alessandro Ferrari, direttore di Assi Terminal. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché riteniamo fondamentale raccontare ai ragazzi qual è lo scenario che hanno di fronte in termini di geopolitica della logistica e hanno necessità di capire che un mondo fatto di trasporti non è necessariamente un mondo che deve essere visto come una sommatoria di segmenti ma come un'industria che si sta sviluppando tantissimo dal prodotto al consumatore. Soprattutto dinamiche che succedono anche in altri settori di integrazione danno la possibilità a un ragazzo di vedere all'interno di una unica esperienza più segmenti di attività e quindi di mettersi in gioco da un punto di vista di quelle che sono le sue capacità professionali, le sue attitudini e anche la sua capacità di orientarsi. Un mondo sempre più globalizzato e che trova fortunatamente su Genova grandissimi player. Quindi conoscere per capire, mettersi in gioco e anche per avere poi la consapevolezza di saper scegliere anche eventualmente altri orientamenti e orizzonti perché senza la conoscenza specifica di un business è difficile avere la capacità di comprendere se quello può essere un tentativo di iniziare a mettersi in gioco o meno.